Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto signor Causarano? Buonasera, senta, sono la signora di Lernia. Dovevo chiederle una piccola informazione, vede, domenica sera sono stata in pizzeria, nella stessa pizzeria mi hanno detto che è stata anche lei con la sua committiva, infatti ho notato un committivo alquanto un po' chiassoso, sì era numerosa, infatti purtroppo fra i bambini e mio marito che voleva andare via, per prendere tutte le cose dei bimbi ho smarrito, mi è caduto il benedetto portafoglio, io sono tornata subito in pizzeria e il cameriere mi ha detto che praticamente aveva visto un po' questa scena che mi stavano sfuggendo delle cose, proprio vicino al vostro tavolo e proprio al posto dove lei stava seduto, quindi volevo chiedere se gentilmente, non so, ha visto, ha trovato qualcosa, più che altro non tanto non me ne frega niente dei soldi, vi li potete pure prendere, ma perché lei si rivolge a me, quello che non capisco? E perché il cameriere mi ha detto che è capitato proprio vicino al suo posto, dove stavano seduto? No, lei vi aveva detto vicino al tavolo, quindi vicino al mio posto? No, perché mi ha detto un signore sui 40-45 anni, biondo, un posto impiato, io sembro che ho 40-45 anni, ma in realtà ne ho molti di più, e comunque mi è stato detto proprio dal cameriere del locale, e quindi... No, guardi, io non ho preso niente comunque, a parte diciamo la battuta... Ma è sicuro, no, guardi, a me non me ne importa niente, anche... Probabilmente il cameriere l'ha informata male... No, perché ha visto proprio una scena un po' truffa... No, il cameriere le ha detto che l'avete preso voi, io sono il marito... Caro, ma è vero, diglielo, diglielo... Sì, me l'ha detto il cameriere, me l'ha detto, ha detto che l'ha preso quel signore Causarano, quella dell'elettronica 2000... Ok... No, no, qui dobbiamo fare le cose, se i soldi se ne vuole tenere se ne tenga, però dobbiamo fare le cose, i documenti voglio io... A questo punto pensate che io mi voglia tenere i soldi, forse mi servivano quei soldi, me li sono tenuti, cosa vuole che... No, no, io voglio i documenti, che c'entra i soldi, i soldi se li può tenersi, faccio un'altra pizza alla mia salute, anzi, ne faccio pure due pizze... Va bene, va bene, a questo punto ve li tengo, me ne faccio due di pizze... Allora ce ne ha lei i soldi e anche i documenti, allora l'ammette che le ha preso lei... No, no, voi mettete quello che volete, ma io i soldi non ce ne ho... Senta, si metta nei miei panni, lei sa benissimo la trafila burocratica per rifare tutti i documenti... Mi rendo conto, signora... Eh, infatti, se mai... Purtroppo non sono io responsabile, probabilmente qualcun altro che aveva bisogno, il cameriere stesso... Ma lei ha detto che è stato Filippo Causarano, sei stato tu, dammi i documenti almeno... Ma vengo dal negozio, vengo a prendere ma non facciamo queste cose... Non faccio arrabbiare, insomma, chi è quello che sta gridando, suo marito? E purtroppo è mio marito perché è un uomo molto sanguigno, quindi anche sapendo un po' tutto quello che significa perdere i documenti... Poi io sono una che perde tutto... E poi ci mettiamo nove mesi per avere patente, carte d'identità, tessere sanitarie, come quelle cose che fanno aspettare alle fine... Ma stiamo a scherzare, dammi i documenti... Faccia stare tranquillo... No, perché amore, perché mi sembra che è una persona quanto corretta... Non fa niente che si prendi i documenti e i soldi della gente in pizzeria, però... Sembra quanto corretta... Il soldi spendesse e stagesse la pizza, a noi la ci direi che i soldi non li vogliamo... Vogliamo i documenti... E poi portare la foglia e la firmata, è una roba buona... Adesso me lo devi... Saluto, signora, vi saluto... Ci abbandona, no, allora, sei... No, per cortesia, almeno... Caro, stai un po' calmo, per piacere... Allora, signor Filippo, la posso chiamare Filippo? Va bene... Ok, la ringrazio... No, questo si chiama Nino, Nino si fa chiamare, non posso riconoscere... Ah, ecco perché... Allora, signor Nino, la prego... Se lei ha trovato questi documenti... Eh... Può fare un'ultima cortesia, le chiedo... Così mio marito non si agita... Eh... E io salvo il matrimonio... Ah, addirittura... Sì, perché quello è tutto così... Non vede... Già per le quattro cose che sono successe... Mi sta facendo una capa tanto... Che non lo sopporto più... Vabbè, tu va... E che ne cambii marito a questo punto... Eh, sì... Non cambii marito... Ma con chi credi stai a parlare... Ma con chi credi stai a parlare... Tu non stavi di là con i bambini... Vai con tua madre... Eh no, io stavo a sentire qua... Vede com'è che le mento... E ci prova pure... Ci prova con mia moglie... Disgraziato... Ma che ti prendo... Ha pure l'indirizzo... Sa dove trovarmi... Sì, sì... Perché comunque le posso garantire che... Si può tranquillizzare... E io me ne sto bello e tranquillo... Senta, allora... Perché non le ho problemi nei soldi... Posso chiedere, signor Nino... Un attimino... L'ultima cosa... Le chiedo l'ultimo favore... Mi devo muovere... Sì, sì... Non si preoccupi... Ecco, si muova in questo senso... Allora, faccio una cosa... Se lei trova questi documenti... Gentilmente... Domenica mattina... Nel programma di Vittorio Cassinesi... Va bene, va bene... Nino auguri di buon compleanno... Nino, tanti auguri... Anche da parte di Luciana Devalo... Auguroni... Ok, grazie, grazie... Grazie... Ma è vero che compi 45 anni oggi... Sì, sì... E che offre la pizza a tutti... Coloro che si trovavano anche... Sì, sì... Beh, aggiunga due posti... A me, vittorio... Qual è il problema? Non c'è problema... No, vabbè... Il problema non è che adesso vengo di là... Voglio i documenti... Se non salviamo il matrimonio... Esatto, esatto... Allora, Nino... Saluto a tutti gli ascoltatori di Canale 93... Per domenica mattina... Che ascoltano il programma del disco Sveglia... Va bene... Ciao a tutti... Saluti a tutti...